Esattamente un girone dopo una delle prestazioni più convincenti del Bari 2019-2020, nuona giornata tra i 18 ottobre 2019 e le reti di Amlili e Sabione che trascinavano i biancorossi alla vittoria contro la Ternana, l'unico scontro al vertice in cui il Bari è riuscito a portare a casa i tre punti, oltre a quelli con il Potenza e con il Catanzaro, sempre al San Nicola, ma andando a vedere le prime quattro forze del campionato, di Cesare e compagni sono riusciti ad ottenere il successo esclusivamente con gli Umbri, un girone dopo la sfida alla Ternana arriva nel momento più delicato del campionato, il Bari scivolato a meno 8 dopo il pareggio di Castellammare di Stabia contro la Cavese, all'obbligo di vincere per dare un senso a questo finale di campionato, parlando ovviamente in ottica prima posto, 8 punti sono un ostacolo insormontabile e se dovessero aumentare in questo turno, i biancorossi potrebbero abbandonare definitivamente il sogno promozione di diretta, da un lato il massimo impegno al libero liberati di Terni, dall'altra un occhio allo smartphone e alle notifiche da Catanzaro, per la sfida tutta calabrese con la regina, capitolo formazione, Bivarini a pochi dubbi, frattali tre pali, davanti la linea difensiva Ciofani, sabbione di Cesare per rotta, bianco in cabina di regia con il ritorno di Maita e uno tra Schiavone e Scavone, in avanti invece la ribia alle spalle della coppia, Simerian Tenucci.